Scusi, non l'avevo vista! Signore, si sente bene? È sparita, è sparita, non c'è più, è sparita! No, no, l'hanno portato via! Io devo trovare quella barca! Una barca? Io l'ho vista una barca! L'hai vista? Ahah, è passata di più un attimo fa! Era bianca! Ciao, sono Dory! Dove? Dove? Oh, è andata... di là! È andata da quella parte, seguimi! Grazie, grazie! Mille volte grazie! Figurati! Grazie!